La felicità di Roberta di Padua, amore con Alessandro e progetti segreti. Roberta di Padua di uomini e donne sembra finalmente godere di un po' di serenità. La recente vacanza con Alessandro Vicinanza ha messo a tacere, almeno per il momento, le voci di una crisi o di una possibile rottura. La ex dama ha recentemente aperto una box di domande su Instagram, rispondendo a varie domande sulla sua vita sentimentale e confermando che con l'ex cavaliere tutto procede a meraviglia. I due formano una coppia affiatata. Alessandro è una persona gentile e perbene, capace di aprire una parte del cuore di Roberta che era rimasta chiusa per molto tempo. Roberta ha anche condiviso i momenti più felici della sua vita, la scoperta della sua gravidanza, la nascita di suo figlio e il giorno della sua laurea. Roberta di Padua, svolta professionale. Ci sto lavorando non solo l'amore, ma anche la carriera di Roberta sembra essere in una fase di cambiamento. Ha rivelato ai suoi follower di avere un progetto in mente da molto tempo, che potrebbe rivoluzionare la sua vita. Attualmente, Roberta lavora come segretaria politica, un ruolo prestigioso che le ha sempre garantito un'importante indipendenza economica. Tuttavia, il lavoro può essere estremamente stressante, soprattutto in certi periodi dell'anno. Negli ultimi mesi, Roberta ha attraversato momenti molto difficili, che l'hanno portata anche a un significativo dimagrimento. Ora sente il bisogno di prendersi più cura di se stessa e di fare qualcosa che la gratifichi e la faccia sentire valorizzata. Ha quindi deciso di candidarsi in prima persona, un progetto ambizioso per il quale ora si sente pronta. Roberta è determinata a portare avanti questo nuovo progetto con passione e dedizione. Ha spiegato che, sebbene il lavoro politico sia stato una parte fondamentale della sua vita, sente che è arrivato il momento di esplorare nuove opportunità che la rendano ancora più felice e soddisfatta. La sua candidatura rappresenta non solo una sfida personale, ma anche un desiderio di fare la differenza in un ambito che le sta molto a cuore. La sua candidatura rappresenta non solo una sfida personale,